SIGEP 2020 ci troviamo allo stand di Zucchetti Orica SRL, un'azienda italiana specializzata in soluzioni e sistemi per la ristorazione e l'ospitalità e siamo in compagnia di Diego Gallo, Diego benvenuto dinanzi agli schermi di OricaTV.it Grazie, è un onore per noi essere presenti qui davanti a voi Zucchetti è un gruppo italiano leader nel mercato del software nasce nel 1978 a Lodi e ad oggi conta più di 6.000 dipendenti con un fatturato atteso di quasi un miliardo di euro il gruppo Orica nasce nel 2018 dopo varie acquisizioni nell'ambito della ristorazione e del retail nel mondo dell'hospitality Zucchetti anche oggi è leader nel mercato con le soluzioni che vanno dalla gestione delle catene fino a bed and breakfast e affittacamere A SIGEP 2020 che cosa presentate? Cosa proponete all'enorme pubblico affluito in occasione di questa 41esima edizione? Naturalmente ci rivolgiamo al pubblico dell'Orica con i nostri software di cassa come ZMenu, Il Conto, PostSistemi, ZDinner oltre a TC Post che è il nostro software per la gestione delle catene L'innovazione che portiamo al SIGEP 2020 è soprattutto il kiosk multimediale è pensato soprattutto per i fast food, le gelaterie e le pasticcerie oltre all'innovazione del Kitchen Monitor per la gestione delle comande direttamente in cucina Diego, per chiunque dunque desideri entrare in contatto con voi saperne di più sulle vostre soluzioni qual è l'indirizzo di post elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? info.hospitality.it lì potete scrivere qualsiasi richiesta o qualsiasi domanda in ente dei nostri software vi risponderemo nel giro di pochissime ore Diego, grazie per la disponibilità grazie a voi, è stato un piacere essere qui con voi grazie a voi